fusione di colore omogeneo in illustrator abbiamo due elementi due stelle una gialla e una rossa andiamo a impostare la fusione di tipo colore omogeneo a questo punto selezioniamo entrambe le stelle e andiamo a creare la fusione si creerà questa sorta di sfumatura che in realtà non è una sfumatura in struttura si può vedere che sono presenti le due stelle e posso spostare in ogni momento e anche ridimensionare la nostra stella per creare un punto luce da posizionare in una posizione diversa del nostro elemento grafico e anche di cambiare colore ovviamente ad ognuno di questi due elementi se decido di fare la stellina bianca e quella esterna di farla di colore azzurro otterremo una stella di questa tipologia